Oh, però no, regà. Lazzarini. Una stoppa buona ha fatto questo. No, 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 no. Meno male, va. Oh, d'altro, non c'è comunque... La tieni in la posizione, no? Eh, non male. Vai, Ciro. Eccolo, eccolo. Sì! Ciao, Ciro. E andiamo, Ciro. E anche quest'anno. E anche quest'anno la prima giornata si timbra. Dai, c'è, c'è. Alla prima giornata. 197 di cuore. E' un po' di ciò contà. No, 195, se ne è. 197 di cuore. Ragazzi, faina. 195. Chi è che è la nuova? La bagnole. La bagnole a lui. Ragazzi, occhio, l'anno scorso si è chiamato in moto di San Zera e poi si può verso l'uomo. Esatto. Non succede. La dovuto di... No, l'ho detto come i risurcizzani. Eh, raglie. Eh, anche la cosa va a rubare. E adesso ce la fanno. Ma no, è 3 a 12. Sende l'aria. E non si svegliano. Continua, ma guarda che ti svegli su 2 a 1 come l'anno scorso. E spazza. Dove vai? Dove vai? Mamma mia. Buona, buona. Guarda, Felipe. Dai. Mi ha corta. Buona, Felipe. Dai. No. Finita, finita. Quando si mangia queste cose? Era fuori gioco, era fuori gioco. Era fuori gioco, eh? Sì, era fuori gioco. Isak, stai fatte vedere. Vai, Pedro. Vai. No, così. No. No. Parada palo. Ma che l'ha preso? Ma l'hai mangiato. 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 Ancora peggio. Ma come si fa? Ma l'hai mangiato. Ma l'hai mangiato. Centrale. Esci addosso, no? Vai su tutto il campo e si fa parlare. Ma l'hai mangiato. Questa è una sinistra. Questa è una sinistra. No, vabbè. Ecco. Perfocca broia. Immaginate l'orsetto. E' biondo. Vabbè, ma come l'hai mangiato? Dove subire, è normale. Perfui è un altro di un po'. Dopo 800 di rischi. Un po' e mezzo alla porta. Uno l'hanno fatto bene. Mamma mia. Pare che ci stanno a massacrare. Ma voi siete matti, oh? Ma sempre là la palla è stata. E che chiama questa palla fuori? Vabbè, tu? No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. E noi lo accorgiamo è possibile. Cioè. Che imbarazzo. Come hanno sposto? No, è peggio. È peggio. Ma non mi piace. Ma facciamo l'ispo. Che imbarazzo. E la lacce, è così? Sì. Francesco, ok. Da quanto giornate sei ultimo? Eh? Certo, quando è che c'hai? Sì, tu ti capirei per la seconda tempo. Guarda qua. Mamma mia. Fai all'angolezzo. Dai che dai, dai che dai. Su di Francesco solo con noi segno. Eh, guarda, starbito. Mamma mia. Non mi fa il fiscale. Guarda che cazzo fai? Che cosa fai? No, vabbè, no, vabbè, dai. Ti ho detto, guardi proprio che hai finito di giocare. Vabbè. Mi sa metto. Sta a pensare a capare. Ti ho detto, se non ti ho possesso della mattina. Non vado con un po' là. Manco, manco che fa l'intimazione. Non vado con un po' là. Vabbè. Vabbè.